Ah, buongiorno, buongiorno, qua siamo la scuola Gabriele Camuzzi, in via che cazzo ne so, e stiamo facendo un video su come io riesco a fare questa roba qua. Allora, consiste nel fare dei suoni, il trucco è proprio l'ispirare, mentre si fa questa roba, devi chiudere le labbra, mettere il dito all'estremità e ispirare piano piano. Cazzo di qua, ti addio?